E bene passo la parola a Renato Di Nicola che è un nostro attivista del forum italiano dei movimenti per l'acqua nonché di tantissime altre reti e associazioni e che è anche un profondo conoscitore delle battaglie per l'acqua anche a livello internazionale in particolare per l'America Latina. Ti passo la parola a Renato anche per te dieci minuti. Ciao, grazie a tutti. Io vorrei partire dal fatto che siamo qui a parlare in un momento nel quale la commercializzazione del bene acqua ha fatto dei passi da gigante e lo ha fatto proprio a livello internazionale perché è chiaro nel momento in cui c'è un gioco in borsa di questo livello a partire dalla California territorio materialisticamente adatto a una cosa di questo genere significa, questo per capirci, che stanno cominciando a dare il prezzo anche alla nostra acqua. Lo dico perché dobbiamo renderci conto che queste cose globali dobbiamo prenderle molto seriamente perché hanno a che fare poi concretamente nei nostri territori, non idealmente. Quando qualche tempo fa in qualche incontro internazionale avevamo detto attenzione perché stanno studiando come controllare la pioggia, come organizzarsi per controllare la pioggia. Non era soltanto un problema naturale, è che ovviamente se c'era un modo per controllare la pioggia significava controllare l'acqua, significava controllare la popolazione e non è un caso che le nazioni che stanno lavorando su questo sono proprio e soprattutto le nazioni nucleari e quelle più armate. Allora dobbiamo dirci che a livello globale c'è chi dirige tutto questo lavoro. Questa cosa non avviene perché il mercato è libero e si incontra eccetera. C'è anche una certa regia di carattere politico che si chiama Consiglio Mondiale dell'Acqua. Ogni tre anni il Consiglio Mondiale dell'Acqua, che è formato dalle più grandi multinazionali, in combutta con le più grandi organizzazioni mondiali e le nazioni più importanti, quelle che non hanno votato a favore per il diritto umano all'acqua ma che si sono solo astenute perché non potevano fare altro nel 2010, e ogni tre anni si incontrano, discutono, decidono qual è la linea da dare in tutto il mondo e poi, guarda caso, tutti i governi si regolano di conseguenza, in maniere diverse ma è così. Oggi, oltre questo, c'è anche il fatto che ormai non sono più soltanto le multinazionali in sé, ma sono i fondi a cui non importa assolutamente niente, diciamo così, se le strutture idriche poi dopo cinque, sei anni sono rovinate o altro eccetera, perché sono fondi che non sanno nemmeno che cos'è l'acqua, non sanno nemmeno qual è la struttura per portare l'acqua, non sono nemmeno come la Liones des Hauts o la Suez, sono peggio ancora. È un potere ancora di più sull'acqua, ancora di più rare fatto, che non si presenta a noi, chiaramente, ma che sono i nostri nemici, perché dobbiamo dircelo molto, molto, o, diciamo così, nemici dell'umanità. Noi abbiamo provato, qui c'è Emilio, e ci ricordiamo, insomma, che ad ogni volta che questi signori si sono incontrati, noi ci siamo andati, abbiamo creato dei controforum, abbiamo organizzato le cose, noi sapevamo già prima del 2010 che si sarebbe presentata quell'occasione di diritto umano, perché l'abbiamo discusso anche nei fori alternativi. E quindi, ecco, diciamo così, ci sono due poteri, c'è un potere reale di questo tipo di capitalismo attuale, che cerca di, diciamo così, sussumere tutto il vivente, e quindi ovviamente l'acqua, e quello che potremmo fare noi. Noi possiamo fare moltissimo, ma dobbiamo metterci in testa che dobbiamo partire dalle nostre realtà, ma dobbiamo avere un'idea globale. Dobbiamo capire che connessioni ci sono tra quello che avviene fuori e quello che avviene in noi. Io lo ricordo sempre, noi in Abruzzo siamo riusciti a salvare la vendita dei fiumi qualche anno fa, perché avevamo capito, lavorando in America Latina, che i fiumi e i laghi si potevano vendere, no? Non potevamo pensare che potessero arrivare a questo, però lo stavano facendo nella mia terra, in Abruzzo, poi in un altro posto, no? E quindi è un invito, quello che voglio fare, a impegnarci, a darci da fare. Già la grande partecipazione che abbiamo avuto oggi è un segnale molto positivo. Dico sempre, quando noi volantiniamo e volantiniamo con problemi legati all'acqua, raramente la gente butta il volantino per terra, perché si rende conto, perché in questi anni abbiamo lavorato per cambiare la narrazione su questo tema. Ecco, dobbiamo continuare, ma serve organizzazione, serve metterci insieme, serve che il foro continui ad avere le possibilità concrete, oggettive, per poter lavorare e fare le cose, e questo significa, è un invito a, diciamo, aumentare o a dare la propria militanza in queste cose, concrete, oggettive, a darci anche degli aiuti economici, di questo abbiamo bisogno, e soprattutto è il fatto che bisogna organizzarci anche a livello internazionale. È per questo che abbiamo creato anche lo European Water Movement, perché bisogna spingere anche in Europa, perché delle volte ti aggiusti in Italia, io ricordo che dopo il referendum, qualche tempo dopo, ci mandarono una letterina dall'Europa dicendo, scusate, ma adesso come la mettiamo con tutte le cose che vogliamo fare in Europa se riproducizzate l'acqua? E quindi, ecco, questo è importante, avere un'idea globale e territoriale allo stesso tempo. Rispetto all'Italia, non è un caso che, per esempio, una parte dei soldi del recovery plan vogliono metterlo, vogliono investire nella possibilità di una struttura industriale dell'acqua nelle aziende del sud, e quando parlano di struttura dell'acqua non ci dicono più privatizzazione, perché sanno che molta gente è contraria, ma è a quello che tendono. Poi magari mettono insieme varie realtà territoriali e dietro, guarda caso, c'è anche questa volta la Suez e la Veolia. Attenzione, perché i processi di privatizzazione non li chiamano più processi di privatizzazione, li chiamano cultura industriale, e con la scusa che adesso tanti soldi non li mettiamo noi, ma li mette l'Europa, vogliono tirare fuori anche questo. Quindi dobbiamo continuare la battaglia su queste cose e dobbiamo ricordarci che abbiamo sempre detto che si scrive acqua, ma si legge democrazia, e che non possono scipparci il referendum. Non è un problema nostro, del foro, che pure abbiamo fatto tantissimo, ma è un problema di democrazia e di tutti i cittadini, perché se in Italia si vota per una cosa fondamentale, nessuno voleva che si andasse a votare, in televisione non hanno chiamato nessuno dei movimenti a parlare, erano i partiti che parlavano e basta, eppure la gente è andata a votare, eppure abbiamo vinto, eccetera, è un problema che dobbiamo riscattare, e fra qualche tempo, a giugno, ci sarà il decennale di questo referendum, e noi dobbiamo brandire, non dire, brandire questo risultato come un risultato della nostra democrazia, della democrazia reale, quella fatta dalla gente. Giustamente Emilio diceva che bisogna ricreare questa unione, questa capacità di legame, e dobbiamo farlo, e possiamo farlo, però se ci impegniamo tutti quanti. Noi del foro non siamo quelli che hanno il dovere di parlare per tutti, noi siamo un pezzo della cittadinanza, non siamo fuori dal popolo, siamo popolo noi stessi, e quindi dobbiamo capire tutti quanti che dobbiamo continuare ad impegnarci sempre di più, e ripeto, avere un'idea globale delle situazioni che ci sono. Vedete, una delle prime cose che ha fatto Bolsonaro quando è andato in Brasile, è stato di quello di vendersi l'acquifero guarani. No, io mi sono messo a piangere, qualcuno ride di queste cose. No, bisogna piangere, perché assassinare e vendere alle multinazionali l'acquifero guarani è un attacco a tutta la popolazione mondiale, non è un problema brasiliano, è un problema di tutti, perché poi questo significa che arrivano qui e magari con la scusa che abbiamo la siccità dicono che bisogna fare molti invasi e poi magari quegli invasi chi li controlla, chi li vende, chi decide se aprire il canale un'ora, due ore o tre ore. E allora questo è il mio intervento, è proprio non solo per dire che c'è tutto questo, ma per dire che su queste cose internazionali siamo ferrati, abbiamo una storia e dobbiamo portarla avanti, ma per portarla avanti le idee devono camminare nella testa, nel cuore e nelle gambe della gente, e la gente siamo noi. Oggi abbiamo fatto un incontro con 500 persone, non è assolutamente poco, visto che purtroppo ci dobbiamo vedere, diciamo così, come se fossimo in televisione, ma anche questa è presenza, dobbiamo partire dalla realtà, ok è finito Emanuele, partire dalla realtà e a partire da questa realtà rispondere con organizzazione dal basso un'Italia e direi rivoluzionaria, perché la rivoluzione non è qualcosa di segreto, di strano eccetera, è rivoltare tutto quello che non è chiaro, rivoltare tutto il mondo, garantendo il fatto che i sogni possano cominciare a diventare realtà.